Si terrà sabato e domenica prossima presso la parrocchia di San Giovanni Bosco il quarto forum giovani del movimento giovanile salesiano. È prevista la partecipazione di circa 200 giovani provenienti da Svizzera, Lombardia e dalla nostra regione. Il tema dell'incontro si ispira agli insegnamenti di Don Bosco, onesti cittadini perché buoni cristiani. Interverrà tra gli altri l'onorevole Savino Pezzotta con un dibattito con i giovani che saranno ospitati dalle famiglie della parrocchia.